Un sessantenne è rimasto gravemente ferito ieri mattina dopo un tuffo nelle acque del mare lungo il litorale di Eboli. L'uomo, residente a Cava dei Tirreni, è toccato, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il fondale marino, trasportato d'urgenza a pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno e in gravi condizioni rischia di perdere l'uso degli arti. Sul posto è intervenuto il personale del 118 dell'Humanitas.